Infine per quanto riguarda il dibattito proprio dei democratici sulle primarie con Renzi che ha una posizione diversa per primarie ampie e larghe rispetto, sembra, alla dirigenza del Partito Democratico. Voi che cosa ne pensate e quale può essere un vostro interlocutore per il futuro? Guardi, noi non abbiamo interlocutori privilegiati. Noi diciamo bene primarie ampie e primarie larghe. In un momento di deficit della partecipazione vanno sentiti sempre di più i cittadini, anche al di fuori, soprattutto al di fuori del recinto dei partiti. Il Movimento Azione Civile nasce proprio per questo. E dall'altro noi siamo pronti a confrontarci e interloquire con chi dentro il Partito Democratico avrà la forza, il coraggio e la voglia di riportare il PD nel campo progressista. Quando lo farà noi siamo pronti a delogare.